accesso interdetto al tribunale di vasto e all'ufficio del giudice di pace per tutti coloro che arrivano dalle zone rosse e dunque dai 28 comuni del basso molise il provvedimento a firma del presidente bruno giangiacomo e del procuratore della repubblica giampiero di florio il documento che ormai da diversi giorni fa discutere rappresenta una forte limitazione soprattutto per le cause penali sulla vicenda è intervenuto nelle scorse ore oreste campoviano per il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di larino il provvedimento è opinabile e lascia perplessi io credo che sia stato un provvedimento dettato dalla necessità di tutela sanitaria questo è evidente anche in considerazione del fatto che nella nostra zona territoriale nel basso molise c'è stato e c'è un escalation di contagi ma il provvedimento lascia però decisamente un po' perplessi perché sostanzialmente interdice la possibilità di accedere negli uffici giudiziai quindi non soltanto nel tribunale ma anche del giudice di pace e nell'ufficio unep presso il tribunale di vasto per il semplice fatto che chiunque provenga dalle zone rosse o decretate rosse non soltanto del basso molise quindi dei 27 o 28 comuni del basso molise ma da tutte le zone rosse o decretate tali a livello nazionale allora noi abbiamo fatto una riflessione come consiglio dell'ordine degli avvocati c'è una necessità di tutelare non solo l'immagine professionale ma anche il libero esercizio dell'attività professionale degli avvocati che si trovano nella impossibilità di gestire l'attività professionale in condizioni di ordinarietà e perché non possono proprio fisicamente accedere allora le valutazioni sono state sono state piuttosto articolate innanzitutto c'è una potevano essere potevano sia il presidente del tribunale di vasto che il procuratore della repubblica potevano anche trovare altre forme di cautela così come è stato in tutto il ecco da un anno a questa parte un po in tutti gli uffici giudiziari d'italia e quindi anche presso il tribunale di larino altrimenti comunque dare la possibilità di esercitare l'attività professionale anche in eventualmente da remoto per quelle operazioni per quelle necessità che si possano tranquillamente risolvere anche da remoto